Sono emozionatissimo per aver passato una settimana vicino a te e sotto tanti punti di vista. Sapere che nel mio palmarès potrò dire che ho frequentato Lady Bocchetta, la donna che poteva cambiare la meteorologia della Liguria, e tu no, da radicale naturalista quale sei. No, la Bocchetta la voglio tutta integra, nonostante che volesse. Cosa mi vuoi dire? È il pataccio. Va bene, senti. Io spero di vederti quando sarai ministro, non perché tu sarai ministro, ma perché verrò a rompe di coglioni per avere un campo da rugby o una cosa. Fai conto, facci conto.